Ciao a tutti ragazzi sono Coridan e ancora una volta ben ritrovati nel mio canale Oggi il gioco che vedete qui davanti che è One Deck Dungeon la versione MS edizioni Che ovviamente tanto poi ve lo ridirò anche nel corso del video se volete ordinare sempre nel primo link in descrizione Questa copia qui davanti mi è stata regalata dal mio grandissimo amico Ryuzenka Che io ringrazio veramente di cuore ringrazio immensamente perché a parte essere un buonissimo amico È sempre una persona che veramente anche quando ha un euro in tasca è sempre pronta a farti un regalo Anzi amato tante volte succede che esce un gioco bello lui lo voleva se lo compra e poi te lo compra anche a te Perché se se lo regala solo lui e non ti manda una copia anche a te si sente male Oh che vi devo dire ci sono anche persone fatte così e secondo me veramente sono le migliori Perché sono quelle persone veramente di cuore che le cose lo fanno col cuore in mano E lui se ti può fare per un prognoso siamo identici di lui Perché anch'io a volte anzi a spesso no a volte preferisco fare un regalo che non riceverlo Quindi ti capisco benissimo e grazie di cuore è un onore conoscerti da tutti questi anni E sai che ovviamente è tutto quanto ricambiato Comunque ci ha mandato anche Robotech Tanto abbiamo già fatto tutto quanto il video unboxing che tra l'altro è veramente una figata assurda E ve lo faremo vedere a breve insomma uscirà non penso se non mi ricordo male durante la programmazione Non molto dopo di questo video che state vedendo ora Si parla di One Deck Dungeon un gioco che ha anche la componente virtuale la componente videoludica E c'è anche su Steam addirittura con tutti quanti DLC con tutti i personaggi E quel matto non contento mi ha regalato anche la versione di Steam con tutti quanti i personaggi sbloccati Comunque è un gioco delle MS edizioni è un dungeon crawler ovviamente Non vi fate ingannare dalla scatola piccolina perché all'interno c'è tutto quello che dovrebbe servire in un dungeon crawler E ricordiamo che la MS edizioni è famosa anche per e soprattutto secondo me dungeon saga o star saga Giochi che fanno della componente miniatura e della componente appunto dungeon crawler il loro forte E dentro questa scatola ovviamente non troverete pedine non troverete niente anche perché è molto piccola Però ci sono molte carte che vanno a comporre un dungeon le varie stanze di dungeon E addirittura ci sono vari sottolivelli boss fight equipaggiamento che potete guadagnare Personaggi che potete utilizzare che vanno dal guerrero al paladino al mago al ladro È veramente una figata assurda e veramente per una volta una scatola così piccola che poi partite da 30 minuti Perché effettivamente sono quelle, l'età 14 o più io lo abbasserei anche perché è soltanto un posizionare Risultati con i dati da 6 sopra le giuste carte o abilità Non vi fa rimpiangere per niente un gioco come Massive Darkness o altri insomma Pieno zeppo di miniature da mettere sul tavolo È un piccolo gioiello e ci farò un video a parte per farvi vedere il meccanismo come funziona tutto quanto In questo video ve ne volevo parlare un pochino e vi faccio vedere l'unboxing Comunque poi seguirà un videogameplay insieme a mia moglie e poi proprio un cosa ne penso Intanto Ryu, grazie veramente di cuore, tanto ci rivediamo fra pochi minuti alla fine Intanto vi faccio vedere un po' cosa c'è dentro Unboxing, la scatolina, è piccolissima, cioè guardate, è veramente minuscola E questi giochi io sto iniziando ad adorarli, lo dico sinceramente, non mi nascondo mai Un tempo li evitavo categoricamente perché comunque io sono più... Se non ci sono pedine dentro a un gioco da tavolo io mi sento male Poi ho iniziato ad apprezzare i meeple, poi ho iniziato ad apprezzare i cubettini E ora ho iniziato ad apprezzare soprattutto i giochi tascabili e portatili Perché questi sono i giochi che potete portare ovunque Cioè vanno bene per una partita veloce ma vanno bene a parte gli scherzi Anche per farsi una partita durante un viaggio, un treno, cioè perché sono talmente piccoli Che non serve nemmeno poi tantissimo posto E non vuol dire che se siano piccoli e ci hanno magari Non ci hanno pedino e ci hanno il menor contenuto rispetto alla controparte Più grande e più massiccia dei dungeon crawler Che comunque siano giochi che hanno uno spessore poco profondo Sono veramente piccoli gioielli e tante volte sono anche giochi spettacolari Come in questo caso Apriamo il regolamento, ovviamente a dimensione della scatola Piccolino, bellino tra l'altro sembra quasi una borsetta di quelle Che gli avventurieri si attaccano alla cintura Fatto veramente bene e guardate all'interno ci sono tutto quanto poi descritto tra l'altro Molto bene tradotto impeccabilmente e come dico sempre Siano benedetti quando ci mettano uno sbotto di esempi colorati accanto Che ci fanno vedere come funziona il gioco Il gioco ragazzi è semplice Si va a pescare dal mazzo comune quattro carte Si spreca del tempo, di solito due clessidre ogni turno per andare ad esplorare E quando un gruppo va a esplorare una stanza Perché è un gioco che si può fare in solitaria o in cooperativa Non c'è pvp Si gira una delle carte e sotto quella carta ci sarà una sfida o una trappola Trappola o sfida che puoi affrontare o puoi scappare Se l'affronti ricevi un bonus Se invece L'affronti e la fallisci Ricevi comunque il bonus ma prendi dei danni Se invece scappi non succede niente Non prendi il bonus però sprecherai ancora più tempo Ragazzi va sicuro il gioco Più o meno è descritto tutto In questi pochi passaggi Poi tanto vi ci farò un video a parte Blocchetto per annotare se perché questo gioco piccolino ma ha anche una modalità campagna Quindi i vostri eroi passeranno di livello E qui ci sono tutte quante le schede per segnare Vedete tutte quante le abilità I talenti che potranno sbloccare E anche il punteggio e le partite del giocatore segnate in fondo Ho già tirato fuori tutte le cose Comunque bellino anche È divisa bene Dentro ci sono Cubettini vari E soprattutto cubettini cuore Che sono i punti ferita nel gioco Bellissimi Ragazzi bellissimi A me piacciono veramente un casino i dadi colorati Non lo so mi rimandano all'infanzia Quando si giocava con le biglie sulla spiaggia Non mi chiedete perché E sono bellini perché sono divisi in dadi neri Che sono dadi eroici Che possono assumere il colore di qualsiasi dado E poi i dadi divisi per colore per tutte le altre prove Quindi magari un dado da combattimento è arancione Un dado magia è blu Se non mi ricordo male Un dado movimento è viola e così via Le carte che sono le tessere del dungeon Ci sono dentro i boss da combattere I mostri come vedete in questo caso Stanze del dungeon Trappole Insomma è tutto quello che c'è da sapere Anche ovviamente mazzi, abilità, equipaggiamento e quant'altro E poi le schede dei personaggi Gli eroi che in questo gioco sono tutte donne Quindi la paladina è una donna La maga è una donna Poi magari c'è la ladra Sono tutte quante donne Questo è più o meno quello No è più o meno Questo è quello che c'è all'interno Oh poi per una scatola piccola così Non è che ci sia poca roba eh Come ripeto Vi ci farò un game... Uno Io dico sempre uno Perché almeno uno lo faccio di tutti i giochi che c'ho Però uno più Gameplay Insieme a mia moglie E poi vi farò ovviamente anche un cosa ne penso Ragazzi È veramente bellino come gioco Perché più che altro È uno di quei giochi veloci Che anche e soprattutto Non è che dura poco La partita Da spiegare ancora più veloce Perché una cavolata Vedete qui ad esempio Sulla scheda del goblin Ci sono vari valori Vari caselle E voi dovete semplicemente andare a tirare i dadi Che avete nella riserva Magari il guerriero C'ha tre dadi in corpo a corpo Il mago c'è una tre in magia Cosa del genere Andate a tirare i dadi E dovete eguagliare Il valore che c'è sopra Quindi un dado 4 viola va qui Un dado 5 verde va qui Tutte le caselle che non riuscite a riempire La sfida comunque l'avete superata Perché andate a prendere il loot Quindi la sfida anche se la perdete L'avete superata Però subirete dei punti ferita E quando il vostro personaggio arriverà A zero punti ferita Almeno che non si possa curare con una pozione Morirà E quando un solo eroe muore La partita è persa Quando si arriva in fondo al mazzo delle stanze Dovete mettere una carta a scala in fondo Rimescolare il mazzo delle stanze Fate conto che state andando Nel secondo livello del dungeon Ed è veramente molto 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 interessante Perché è un gioco veloce Un gioco molto dinamico e molto tattico Devi sapere quando combattere E quando scappare Ma soprattutto Non devi far scadere il tempo E inclessidere E non devi far morire nessuno dei personaggi Anche perché le pozioni di cura E i punti esperienza Non li guadagna il personaggio Ma sono in un pool comune per il gruppo Quindi sono a beneficio di tutti In questo gioco si passa a tutti di livello Quando c'è abbastanza punti esperienza Tutti gli eroi passano di livello Quindi in conclusione È veramente un bel gioco Non li do un voto perché Non è un video appunto Cosa ne penso Che ve lo farò a parte Ryu io ti ringrazio veramente di cuore È un onore Veramente conoscerti Non ti sei mai smentito In tutti questi anni Ci siamo sempre fatti i regali Alla fin fine Perché è tutto Fasso è un regalo E veramente grazie 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 al profondo del cuore In un gioco Che poi ci sei stato attento Perché me l'hai detto Eh questo ho visto tutti i tuoi video Che sei amante dei dungeon crawler Questo non ce l'avevi Quindi è beccato anche proprio Uno di quei giochi Che anche magari Senza saperlo Perché non mi pare Se ne fosse mai parlato Però era un gioco Che volevo da morire Quindi grazie di cuore E come arriveranno Cosa ne penso E ovviamente gameplay Te lo andrò a dedicare Quindi Ryu Grazie immensamente E ragazzi vi ricordo Che l'edizione italiana Di questo gioco Accura delle MS Edizioni Primo link in descrizione Per acquistarlo direttamente Dal loro sito Non so se è fuori produzione Eh vi dico la verità Perché questa è una nuova versione Non lo so Comunque vi lascio il link Andate direttamente a vedere E poi comunque ci sono anche Tutti quanti i social E la mail Della MS Edizioni Nel caso vogliate Fargli una domanda E sapere magari Quando tornerà Nel listino Del negozio Quindi ragazzi Lasciate un commento Fatemi sapere cosa ne pensate E ci vediamo alla prossima Grande Ryu